Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo sulla parodia di Fabio Roazzi E mi raccomando ragazzi a 7 mi piace un altro nuovo parodia Ma adesso cominciamo il video Mi raccomando spolliciate ma soprattutto divertitevi ragazzi Ci è voluto un po' però ci siamo riusciti Cioè io e Fabio Roazzi Addio Ci vediamo fra poco Eccoci Chiamiamo il mio amico Fabio Voglio dare questo numero Pronto Fabio Che vuol dire un problema in testa funziona a metà Ma Fabio dove stai Dove stai Ah beh sì certo Stai nel ristorante Fabio ma Che cosa ti è successo Ah sì certo ma è una malattia Come stai bene o male Eh Eh beh Fabio Ma dove stai? Che vuol dire io non faccio il busto? Ma dove stai? Io già sei? E io, cioè... Fabio, ma si posso vedere dove sei? Sì, scatto il fatto con il tuo cane, certo. Fabio, ehi, ma dove stai? Senti, se stai lavorando alle cazze, ok, ti lascio, però dimmi, dimmi almeno dove sei, cioè... Che vuol dire quando mi vuoto, mi guardi... Ma dove sei? Cioè, Fabio, ma dove stai? Il trattore intangenziale... Il trattore intangenziale? Ma che cosa stai dicendo? Ma però, Adi... Eh, sì, che ce l'ho sbattuto. Eh... Eh, Fabio... Ma chi glielo fa assi il bicchiere? Ehi, ma che sto io a dire? Fabio... Uè... Ma che cosa... Fabio, ma chi ero mo' questo? Spiegami chi era... Sì, ero dei ragazzi, ma il volume... Vabbè, ciao... È Fabio... Addio ragazzi, e spero che vi sia piaciuto. Persona, peraltro... U dry asi... Ti... che... non...